Salve i miei cari ritubatori, vi devo comunicare che purtroppo durante questo mese di febbraio probabilmente non caricherò dei video, ma non è detto magari qualcuno uscerò a farlo perché sono impegnato nello studio per alcuni esami nell'università grazie come sempre per il vostro supporto e vi aspetto negli prossimi video iscriviti, iscriviti ora se non l'hai già fatto subscribe, subscribe now ah date anche un'occhiata alla mia pagina facebook se volete sempre essere aggiornati sui miei prossimi video e se volete avere dei maggiori approfondimenti